Scatman's World Facciamo una stagione bonus con la CM di Milano Ragazzi è chiaro che se ne vendo A rapiche Io sono milanista Chiaramente un milanista pazzo Un super tifoso Che però è un po' incazzato con la squadra Trasferimenti Onda di Merda fuori dai coglioni Ballotelli è il primo che va fuori dai coglioni C'è un venimento a Ress Che è un giochio anche più forte Ma uno come ballotelli non può stare nella mia squadra Moltari di Merda fuori dai coglioni Zappata Polli, Anna Urbi, fuori dai coglioni Bonera, fuori dai coglioni Mamma che gente di merda che ho Saponata Birsa ragazzi, ma perché? Prestito, fuori dai coglioni Saponata un altro coglioni Ok, bu Adesso, c'è questi milioni di euro Prima cosa ragazzi, allora Mettiamo vedi sciglio, lo cazziamo A sinistra e batte a destra Difensore centrale Un centrocampista Almeno uno per ruolo Sarà dura però Allora, cerca giocatori Difensore centrale I soldi non sono tanti Proviamo Astori Che già è meglio delle merde che abbiamo Forse Vediamo quanto sono i parametri Non mi ricordo neanche più Davide Astori 4 milioni Allora 6 milioni Vediamo così intanto Però Sono proprio stramega Convinto Eeeh Ok Qua c'è la campista Voglio provare Blind Dell'Ajax Vediamo Un autore che mi piace molto Eccolo qua C'è la pista difensiva Eeeh Ok Eh questo mi costerà Proviamo 8 Dalai blend Mi piacerebbe Cazzo Mi sguardo Ok Giovane Ok Poi l'ala Devo fare Allora vediamo Elisha da una parte Vorrei giocare con la doppia La punta Allora vediamo un attimo Eeeh Campionato Vediamo se è già Allora Cazzo Sei Stronza Facciamo un po' di mercato In diretta Dai No Un deep chain Vediamo se mi trova qua Sì ma no Lì Devo fare la squadra Anche Stupido Eccolo qua Attaccante Sinistro Florida Elisha Troppo Elisha Al destra Non me lo fa Comunque Informazioni Quanto costa Sto stronzo Iniziamo Con 8 Che con lui Tanto Devevamo vendere Qua di merde Ok Eh Questo mi sarebbe Il stesso giocatore Anche su Football Manager Lo compro spesso Poi Dalla parte destra Questo sarebbe Un sogno Ragazzi Eeeh Per favore Quale Aspetta Un attimo Lapsus No Come sono i cojoni No Eccolo qua Eccola qua Coglionazzo Benfica A via ricerca A via ricerca Eccolo qua Eccolo qua Edoardo Salve Questo lo voglio Questi qua Costano tanto Però Fa una squadra Così Secondo me Anche lui 8 E vediamo Tanto Speriamo di mandare Via ste merda Di giocatori Che ho Allora Vai Per la prima volta Che ci facciamo Veramente Il mercato Insieme Avanzo Sondaggio Astori Non lo vogliono Cedere 10 milioni Allora Tocca più Grazman 34 Messi Ciao Salvio 21 Allora Ok Trasferimenti Allora Via ricerca 21 milioni Però sono tanti Vabbè Aspettiamo qua Appunto Prima Deve Darmi Le notizie Vabbè Che i Borotelli Mi vai fuori Del cazzo Per piacere Grazie Ok Valore Superiore Invia Nuova offerta 1 milione Proviamo 15 Bisogna Trattare Ragazzi Non proviamo a vendere Voglio vendere Ste merde Allora Accettata Ok Blind Perfetto Credo Molto In questo In questo Ragazzotto Buono Buono Di gol 10 Giocatore Chiave Prima squadra Ok Buono A 7 milioni Per Astori Se vogliamo Anche Se riusciamo A vendere Sono pazzi Bisogna Vendere Ragazzi Bisogna Vendere Giocatori Perché Sennò Impossibile Se si è dal peccato Ma vogliono Veramente Una roba Incredibile Credo Se nessuno Vuole I miei giocatori Ma mi sparo Offerta Accettata Conferma Blinda Arriva al mira Ragazzi Questo secondo me È un bellissimo Colpo di mercato E gol E gol E gol E gol E gol Primo colpo Del Milan Di Venezia Pazzini Oh Pazzini Friburgo Sì sì Lo devo dare No Questo è Mexes Però Ma sinceramente Anche Mexes Lo mandiamo a fare in culo Sto vecchiaccio Di merda Pazzini Quanto mi danno 4 milioni Accetta Non ne voglio Rifondare la squadra Fiori Sto meno Mi fa troppo Da cagare Ok Quanto siamo 8 minuti Buono Vai Real acquistare Vandoschi Offerta Palotelli Palotelli Cazzo L'Inter Lo vuole Però Contro Offerta No bene 19 Proviamo Eh 19 19 Lo do anche L'Inter Ma Vaffanculo Però Pazzini C'è Spaccare Il cazzo Ok 18 Me li danno Trove Proprio Vai tranquillo Non sentirò mai La tua bancanza Tanto Pazzini Lo vendiamo A questo punto Poi ci divertiamo Se si guarda Voglio fare Il pazzo Il pazzo James Bond James Bond Rodriguez Intanto Vediamo James Bond Rodriguez Il buono Sapete che ho I miei pupilli Carrasco Campos Insomma Non mi faria schifo Neanche James Lo vedete Insomma Solo che non ho punte Di volo James Bond Rodriguez Ok È appena arrivata La vedo un po' dura La vedo un po' dura Ok Un attaccante Un bel attaccante Una punta Una punta Forte Ho bisogno Ho bisogno Di una punta Cattiva Barclays Attenzione Vediamo un attimo Vediamo Io voglio fare La squadra giovane Lo sapete Ragazzi Bundesliga Aspetta Qua Perché Io ho sempre La Quando registro Ho sempre I lapsus Ma porca Ma perché Se bussicò Io L'offennite No Ho già guardato L'offennite Però Oddio Eh sì Madonna Signore Aspetta Che fortuna Che ho anche Il computer Aspetta Che faccio Tutto in diretta Ragazzi Tutto in direttissima Eh Oddio Eh Cazzo Sì È dell'offennite Porca puttana Vecchio Dell'offennite Se non può non trovarla Aspetta Ripristina Non si è apprenato via Nella stagione Ma Non ho aggiornato Le rose Oddio Dubbio Comediano No C'è Tarav Ci sono tutti Kevin Volland Ragazzi Kevin Che cattivi Che cattivi Che sono tutti Boh Dai che va via Barotelli Se il Borussia Quanto vuole Beh Parra Usiamo anche di più Se il Borussia Va alla Barotelli Può andare a cagare Subito Ho capito Ah Per lo fare accetta Vediamo Aspetta Proviamo un attimo Vediamo Proviamo un attimo Vediamo 19 Vediamo Che c'è Il Borussia Aspetta Troppo basso 16 milioni Ah uno in più Ne vuole Se non Potevo vendere Lo capio Aspetta Avanzo Avanzo Vabbè Accetto l'offerta Ciao Allora Offerta Rifiutata Eh si è appena trasferito Chiaro Minfica vuole 16 Ecco Devo aspettare Sempre che mi arrivano i soldi Che lo coglioni No Ok Entra la propriazione Ciao Allora Vediamo Ma perché i soldi non mi arrivano Ho capito Ma non me la fa Questi vaneggiri Tanto Qua il mercato Ragazzi Il mercato Il giocatore venduto Ecien Quanto mi danno per Ecien Accetto Speriamo il po' di giovani Dall'hotel 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 Salvio A destra 16 milioni Questo per me Fare veramente Oh Grandi cose Insieme a Esce A sinistra Serve la punta Però 7 milioni Per Astori Lo fono Ok Buono E allora Vediamo un attimo Mi serve la punta Però Mi serve il puntone Che cazzo prendiamo Che cazzo prendiamo Di punta Stiamo un po' in Italia 5 milioni 5 milioni Ehi sono Purtroppo è difficile Trovare Gente che non ha tantissimi soldi Quello è il discorso Sono in Francia Abbiamo poca roba PSG Non ti diventerà mai Degana Superliga Primera Liga BBM la zona, Vigo, Barsa peraio scoppici, lega rossa e le divise Catania, Ricattania, Fiorentina lei è dura ragazzi, lei è molto dura ragazzi facciamo così, parliamoci qua sapete che i prossimi acquisti facciamo foto una parte, ne ho fatti io ho bisogno di una punta centrale giovane, non deve costare troppo dopo la riserva me la compro io e magari un altro difensore che può essere o terzino o centrale va bene raga, un saluto del cumenda veneziano cumenda veneziano cumenda veneziano cumenda veneziano lo youtubers italiano cumenda veneziano cumenda veneziano cumenda veneziano lo youtubers italiano